Proseguono i lavori in capo al comune di Sapri per le operazioni dei massi pericolanti sul costone sovrastante il tratto della strada statale 18-Tirrena-Inferiore lungo l'itinerario Sapri-Maratea. La chiusura del tratto stradale si è resa necessaria a seguito dell'incendio verificatosi lo scorso 17 agosto, che aveva provocato il distacco di materiale roccioso. A seguito delle prime ispezioni e verifiche tecniche sul posto, il genio civile di Salerno aveva accertato lo stato di pericolosità dei luoghi e successivamente l'amministrazione comunale di Sapri ha avviato per competenza i lavori di sommorgenza per la messa in sicurezza del costone con l'ausilio di rocciatori. Al termine dei lavori, il completamento è previsto nella prima decada di ottobre, l'ANAS effettuerà gli interventi per la riparazione del piano viabile e per la sostituzione delle barriere danneggiate dalla caduta dei massi, per consentire in tal modo la riapertura al traffico in piena sicurezza. La durata di queste ultime attività è stimata in circa tre giorni, salvo condizioni meteo avverse.